buongiorno a tutti ragazzi vorrei approfittare di questa domenica mattina perché mi sono messo a correggere delle bozze una bozza di un libro chiamiamolo libro che sto cercando di completare anche perché mi è stato richiesto da amici che è molto incentrato un primo capitolo di una serie di capitoli che vorrei fare molto incentrato sul concetto di mani forti su questa cosa mi piacerebbe mi è venuto proprio l'istinto di fare un piccolo video se per voi poi è gradevole mi dite se possono andare bene questo tipo di di video chiamamoli più che altro formativi o perlomeno di studio il video sulle mani forti ora in rappresentazione vi faccio vedere questa foto poi riprenderemo per capire bene quello che io su questo testo cerco di fare come rappresentazione metaforica nel mondo del trading quelli che sono gli attori principali che ci sono nel trading una volta vista questa foto io direi che sia il caso di vedere un video che io su questo libro indico che viene fuori da un documentario più ampio che ho trovato se non ricordo male sul netflix relativo a quello che è uno stratagemma utilizzato dalle balene visto che nel trading si parla di balene squali e compagnia bella da uno studio condotto una rasca che è molto interessante che può essere usato come similitudine per quello che sto per andare a dire nel video ora vado a a cercarlo scusate un attimo perché devo operare in diretta con i mezzi con i potenti strumenti tecnici che ho eccoci qua vi faccio vedere un attimo questo video poi riprendiamo il discorso e quindi Grazie. Grazie. Eccoci qua, penso che sia abbastanza chiaro il concetto del video, ecco questo è un po' il testo che sto cercando di preparare, andiamoci per apprendere quello che volevo vedere insieme a voi. Quindi il concetto del video vuole rappresentare fondamentalmente quello che i cetacei utilizzano come metodo abbastanza funzionale per raggruppare più possibilmente delle prede in un recinto di bolle d'aria. E questo può spiegare tante di quei concetti che addirittura le mani forti usano i mercati. Allora, una delle prime cose che io cerco di comunicare con questo testo è di lavorare su due regole precise, due verità assolute dei mercati. Io avendo attivato questo canale YouTube tutte le volte che mi vado a vedere dei video di trading di Amish o vado a vedere anche il mio video di trading per rivederlo, mi rendo conto che incredibilmente sparano pubblicità con queste due frasi. Tutte le pubblicità sui trading che vedo hanno queste due frasi iniziali. La prima, vuoi battere i mercati? La seconda, stai perdendo nel trading? Vuol dire che non stai usando il sistema giusto. Pieno, una cosa impressionante. Mentre invece, a mio modo di vedere, le verità sul mercato sono due, forse anche tre. Diciamo le prime due. La prima assoluta è che i mercati sono frequentemente, se non 24 su 24, manipolati. C'è una manipolazione sui mercati prodotta essenzialmente dai big, da quelli che vengono chiamati squali o balene o mani forti. La seconda verità è che i mercati sono fondamentalmente un riassunto di comportamenti di una serie di soggetti che operano sul mercato, quindi compresa anche noi, compresa anche quello che entra con un contratto solo. Poi c'è una terza verità, secondo me, visto che qui c'è una tempesta perfetta di formatori e di guru del trading, che l'unico metodo tecnico, qui stiamo parlando di metodo tecnico, quindi non di approccio e non di disciplina o comportamento, il metodo tecnico. Il metodo tecnico può essere quello di analisi tecnica, analisi fondamentali, analisi finanziaria, il mio sulle congestioni, quello di rosse, eccetera, eccetera. Ogni metodo è quello giusto, ma allo stesso tempo ogni metodo può essere quello sbagliato. Cosa vuol dire? Vuol dire che nessuno al mondo, di qualsiasi levatura sociale abbia, o di qualsiasi passato possa avere a livello di professionista di trading, può avere la capacità di indicare a una persona, a un trader, una tecnica profittevole. Secondo me, il ruolo di chi fondamentalmente deve avere un'esperienza, e per esperienza si intende, come può essere per il mio caso, dopo 30 anni di aver perso tanti soldi nel trading, è quello di spingere la persona che utilizza un suo metodo a compiere un ragionamento. Quindi un ragionamento per rendere più profittevole la propria metodologia. Perché uno non deve rinunciare al proprio metodo tecnico sul trading? Perché ognuno ha le sue motivazioni per cui fa un'operazione. Ci sono anche motivazioni di natura, non solo tecnica, grafica o economica, solo relativa alla borsa o al trading. Ci sono componenti di natura della propria finanza, ci sono componenti di natura delle proprie aspettative personali, di rapporto in famiglia, il modo con cui interpreto la situazione, il modo di quello che per me può essere utile fare o non fare in quella determinata giornata di trading a livello economico, la mia componente di rischio, il mio grado di comfort. Ci sono persone che sono in grado di, utilizzando chiaramente size adeguato per non essere stoppato in margin call, di sopportare per settimane, se non per mesi, perdite importanti. Ci sono persone che invece non stanno in perdita più di 10-15 minuti perché non le sopportano. Quindi nessuno veramente nel pianeta conosciuto esiste alla possibilità di poter dire a una terza persona, a qualsiasi livello culturale di trading abbia, qual è il metodo giusto. Può solamente supportare questa persona nel compiere un ragionamento sulla base di strumenti o di studi fatti che quella persona può prendere per buono o meno e utilizzarli a proprio piacimento. Uno di questi è quella che secondo me è una legge fondamentale del mercato, che i mercati sono fondamentalmente manipolati. Cosa vuol dire manipolati? E qui viene fuori tutta un'altra tragedia di, chiamiamole, alla Cricca lo fa perché gode, gode, nel fare perdere soldi alle persone. Allora, Cricca intesa i big trader, i mani forti cosa sono? La società di trading, banche d'affari, grossi operatori. Quando si parla di grossi operatori si parla di operazioni da miliardi di dollari. Quindi diciamo innanzitutto un ruolo a cui non potremmo mai aspirare, se non in rarissimi casi come per me è stato Warren Buffett che ha iniziato, però ci ha messo decine di anni da tradere ed è diventata mano forte. Questi, dal punto di vista di metafora, cioè di paragone, li possiamo considerare le balene che abbiamo visto nel video. Allora, qual è la prima indicazione che dobbiamo fare di questi? Che operano nel mercato? Totalmente lo manipolano. La prima cosa che dobbiamo dire di questi soggetti è che loro, fondamentalmente, hanno bisogno di grandi quantità di cibo. Nel documentario abbiamo visto che queste balene hanno bisogno, con questo sistema della costruzione dei cerchi di aria, di accumulare una quantità enorme di preda, perché hanno bisogno di un pasto enorme. Andiamolo un po' a vedere sulle mani forti nel trading. Un trader, una casa di trading, un big trader, quel determinato giorno, quella determinata settimana, ha bisogno di collocare, quindi lo scriviamo, il primo obiettivo del big trader è collocare le tosse, la quantità di contratti, in mercato. Questo è il primo problema che hanno. Non è il problema che abbiamo noi, che sono un book dove sull'SPFuture vedo 200 in acquisto, lettere e denaro, 200 in lettere, 200 in denaro, con i miei due o tre contratti, praticamente trovo sempre il mercato. Qui si sta parlando di soggetti che hanno bisogno di lavorare con una quantità astronomica di contratti, tali che possono saltare diversi livelli di book. Faccio un esempio. Facciamo finta di essere un gruppo, lo scriviamo anche questo in diretta, così cerchiamo di fare un ragionamento. il big, facciamo finta che siano fish, il big ha mille fish. Questi mille fish ci deve comprare i corrispondenti di mille contratti. Di fronte a lui c'ha un gruppo di mille persone che hanno una fish. Ok? In questo caso qui, al momento queste mille persone non hanno le fish posizionate su il book. Anzi, facciamo una cosa diversa. 500 hanno già inserito sul book il loro ordine a diversi prezzi. 500 sono pronti mettere le fish su e mettiamo fino a qui. Quindi io, il mio obiettivo da big trader è quello che devo far di tutto per utilizzare queste mille fish in maniera profittevole avendo dall'altra parte mille soggetti che si comportano paradossalmente, apparentemente, scusate, nello stesso maniere, nella stessa maniera. Allora, qui stiamo già vedendo questo discorso qua. Io aggiungerei anche una cosa diversa. Di queste 500 persone, scriviamolo, così abbiamo che è importante, delle 500 persone che hanno già inserito ordini maggioranza già sul mercato una posizione aperta e con un ordine di stop per l'osso qua. Quindi, io, manoforte, so che se compro da qui 300 contratti, perché questi sono 300 persone, giusto? Questo è il loro stop per l'osso qua. Io porto da un prezzo di 3.798 in profitto fino a 4.000 praticamente 300 dei miei contratti. Quindi le faccio fare 200 punti. diciamo che se dovessi fare il tutto qua, già una parte di questi contratti che probabilmente saranno la maggioranza, perché tanti sono entrati short qui e hanno lo stop per l'osso e quassù, diciamo la maggioranza, non ci guadagno niente. E poi c'è un altro problema. Mi rimangono, rimarrebbero fuori 700 contratti che non uso. La mia missione, come la balena, è che se non mangio mille contratti, con questo, in questa giornata qui, essendo di tonnellate e quindi avvenendo bisogno di molto cibo, io rischio di morire di fame con 300 contratti soli. Poi tanti possono anche scapparmi, perché io inizio a far scattare questi, quindi sono praticamente cibo che non mangio perché è allo stesso prezzo e questi qua possono essere addirittura meno di 300 se non 100. però la mia missione è quella che io devo mangiare mille sardine, mille contratti, mille grill all'interno di quel video perché ho questa esigenza e questa disponibilità. Devo trovare il modo di avere 700 persone, visto che 300 sono già dentro, che vendano a me 700 contratti a un prezzo per loro giusto che reputano giusto, che reputano idoneo per vendermeli. L'unico modo che ha la mano forte in questo contesto di grafico qui dove ha fatto tre candele longhe quindi ha immaginato, ha fatto immaginare alle persone un procedimento long però ha incamerato tanti short da qui perché questa è una rottura importante dove sono entrati gli short è quello di convincere altre 700 persone dato che io voglio comprare, in questo caso la mia missione è comprare 700 contratti che questa cosa produrrà un guadagno importante per chi vende. Quindi cosa faccio? Di questi 700 contratti, di questi mille contratti che ho a disposizione una piccola parte la uso per generare un'impressione short. E qual è l'impressione short migliore per un trader che usa l'analisi tecnica? che segue i corsi di analisi tecniche che quindi va sui segnali di rottura e quello della rottura del minimo qua sotto viene considerato come punto di ingresso questo qua eccolo segniamolo come punto di ingresso per un big short perché le attese del piccolo trader è quello di trovare il grosso guadagno in un grosso movimento quindi la rottura di questo minimo verrà interpretato dai retail di mercato che pensano di avere in mano il sistema unico imbattibile semmai venduto da un terzo e quindi di non far parte di un gruppo giusto perché seguono praticamente delle rappresentazioni questa rappresentazione di rottura del minimo la possiamo chiamare bolla d'aria della balena con questa rottura che la balena usce con un quantitativo di contatti abbastanza esiguo di quei mille che ha 100 200 crea questa rottura dove lui cosa fa? inizia a vedere piano piano un ingresso sistematico di altre 700 persone perché la rottura crea un gruppo molto importante crea gente che va usato per produrre questo minimo e più piazza di altri 800 o mille contratti a prezzo medio 3.600 praticamente in acquisto ma il lavoro non è finito adesso il restante gruppo di contratti precedentemente in ingresso più di altri 700 che io a cui ho comprato ma sono in posizione short diventano ulteriori ordini di stop e loss quindi qua inizia ad avere non 300 contratti ma 1000 e qui scatta il pasto le bolle d'aria sono costruite e questo è cosa faccio qua sopra una volta finito questi ordini qui vendo i miei contratti ne ho venduti tutti come manoforte ne ho venduto una parte vediamo come il mercato risponde qui sicuramente è una chiusura parziale di contratti qui probabilmente è già un tentativo di rirappresentare un altro short rottura del minimo mi sono rientrati altri contratti con stop e lossi probabilmente come abbiamo visto in un'analisi del precedente video le mani forti qui e lo sapremo con un segnale o stanno attivando uno short per prendersi quelli che poi nel frattempo mi hanno creato un mercato long qua sotto con i stop e lossi short qui sotto oppure mi vado a prendere con un uncino usando questi ordini o questo ma intanto io 1000 contratti a 3006 li ho chiusi in parte o forse tutti a 3009 settimana prossima sapremo se questi hanno fatto chiusura totale della posizione attivata qua sotto solo parziale per incrementare come ha fatto anche qua giù con una chiusura parziale vedete rincrementare il quantitativo il movimento viene attivato esclusivamente dalle mani forti viene poi costruito nella sua nel suo trend dagli ordini del retail che entrano long qua su o vengono stoppati i short qua su questa è la procedura e ritorniamo alla nostra immagine in questo video qui abbiamo visto due quindi personaggi fondamentali lo squalo o la balena la sardina sardine sardine che sono stati pazientemente raggruppate e che poi vengono sterminate però in questa foto c'è un terzo personaggio e questo che su cui mi concentro sul primo racconto che è questo soggetto qua uno si deve domandare ma perché ogni volta uno squalo si va a mangiare un branco di sardine quando dietro c'ha questi pescioletti che lo seguono che funzione hanno questi questi sono come dei satelliti se li vedete sono proprio appoggiati sullo squalo e lo seguono dietro con un'unica ed esclusiva missione di non uscire mai qua davanti cioè praticamente stanno dietro agli occhi alla bocca dello squalo e lo seguono non stanno facendo niente lo stanno esclusivamente seguendo non stanno mangiando però ci avranno una funzione questi pescioletti che si chiamano pesci remora o pesci pilota un insignificante soggetto nei documentari di cui non ne parla mai nessuno che funzione hanno questi pesci qua questi pesci hanno la funzione che svolgono nel trading scusate lo sbagliato e lo mettiamo qui per un motivo questi pesci hanno la funzione di seguire lo squalo cioè loro praticamente escono allo scoperto stando dietro allo squalo aspettando che lui inizi la caccia perché non entrano prima sul branco di sardine il loro obiettivo è quello di andarsi a mangiare le sardine insieme allo squalo quello è il loro obiettivo perché non entrano prima perché fondamentalmente se entrano prima compiono un errore che è quello di posizionarsi davanti alla bocca insieme alle sardine lo squalo qui non fa distinzioni come sugli ordini può essere di una razza che di un'altra e quell'ordine viene eseguito quindi quel pesce viene mangiato cioè non è che dicono sì te sì te no l'importante non essere qui davanti quindi qui sfatiamo subito una prima frase che i guru dicono anticipare il mercato vuol dire essere qui davanti noi noi dobbiamo essere di follower di chi di loro o di lui io preferisco di lui ma loro ragazzi usano gli schemi i sistemi di analisi tecnica analisi fondamentali ingresso su notizie tutte queste cose qua pensano di aver intuito il mercato come se fossero i geni incompresi su otto miliardi di persone in questo pianeta e poi improvvisamente si ritrovano insieme a tutti gli altri perché anche tutti gli altri quelle bolle d'aria l'hanno interpretata come un posto sicuro invece questo ha un comportamento molto più umile e cosa aspetta? aspetta una cosa sola e lo scriviamo un elemento che fa capire che lo squalo inizia la caccia e che subito dopo loro devono entrare a prendere non le sardine mentre lo squalo caccia in questo turbinio e in questo massacro devono prendere dei pezzettini che rimangano in acqua e che per loro e sono il loro pasto piccoli brandelli di sardine e devono aspettare una cosa sola il segnale il segnale scriviamo bello grosso questo se ci riusciamo scusate se sono un inadatto il segnale che è quell'indicazione che lo squalo si è attivato non è interesse del pesce remora attivarsi prima dello squalo sa dov'è il banco di sardine gli ordini in questa situazione qui sa che ci sono degli ordini sopra sa che prima o poi verranno presi non sa quando perché lo dice non è in grado di prevederlo gli serve un'evidenza un'evidenza tecnica che si chiama segnale che in quel caso vuol dire che lo squalo che entrare in scena dopo è profittevole e sicuro questi pesci remora nel trading quando andate a vedere le statistiche dei vostri broker che dicono ah vi ricordiamo che statisticamente il 75-90% dei trader anzi ti dicono che il 75% dei trader perde soldi però non ti dicono che il 20% non li guadagna quindi rimane un esiguo 5% che è profittevole nel trading fatto da due tipi di soggetti chi ci lavora tipo come può essere una persona come me per andare per campare diciamo o le mani forti che ci guadagnano regolarmente con i loro algoritmi come loro questo 5% sono pesci remora o sono squali o sono pesci remora sono i due soggetti su tre soggetti in questa storia squali pesci remora e sardine sono i due soggetti che mangiano numericamente sono molto meno rispetto al branco di sardine che vengono depredate quindi il pesce remora sa bene quello di attendere un segnale a loro non gli interessa prendere la sarina mentre sguazza nel mare a loro gli interessa prendere il brandè che può essere attivato solo dopo una caccia in questo caso qui cosa ha fatto quindi sfogo sciorte bolle d'aria rappresentazione posto sicuro sciorte segnale qui sono già attivati gli squali ma io no io sono un pesce remora devo aspettare che si compia questo qui la caccia è già attiva qui sta già sterminando come si suol dire lo squalo ma io qui sto ancora aspettando non ho ancora il segnale dopo uno due tre quattro cinque sei giorni sette giorni sette sedute che lo squalo sta già facendo raccolta con le bolle d'aria raggruppamente caccia io sono ancora fermo io entro un gioco qua solo uno due tre qui iniziano esserci i primi brandelli questi sono brandelli tre giorni di pezzetti che girano per l'acqua che io devo mangiare e qual è l'elemento che mi dà che mi fa capire quando mi devo muovere dalla schiena dello squalo andare a prendere pezzettini al rischio di essere di diventare prede quindi sono un mare aperto in quel caso lì non sono più protetto dietro lo squalo sto anche io andando a prendermi i miei pezzettini l'unico strumento che ti dice quanto tempo tu dovresti stare a mare aperto è la volatilità in questo caso non più di cento punti meglio ancora cinquanta che il nostro meccanismo di fare trading su dei terzi di volatilità quindi io entro su questo massimo qui che è il mio segnale che lo squalo ha iniziato la caccia perché inizia a vedere brandelli di carne al giro per il mare che è su 3.764 dopo sette giorni che è iniziata la caccia pensate ho anticipato il mercato no non l'ho per niente anticipato è lì la trappola volerla anticipare e so che a 3.810 100 punti metà volatilità devo iniziare a tirare i remi in barca perché rischio di diventare preda andiamo a vedere quando è 3.810 eccolo qua è il secondo giorno qui chiudo due terzi potrebbe farmi 3.864 con il singolo movimento perché sono in volatilità a 100 vediamo lo fa chiudo un terzo e guardate lui cosa fa a cibarsi anche dei pesci remora che non sono stati umili e che hanno detto ma io sto qui in mare aperto vado a un pezzettino di carne sembra che ci siano più avanti e divento preda e qua quindi pesa segnale umiltà pesa uguale pazienza e consapevolezza del proprio ruolo io sono pesci remora non sono squadra segnale uguale a umiltà uguale a quindi qual è il concetto qua l'analisi tecnica è importante l'analisi tecnica è uno strumento ma la consapevolezza di tre cose di tutto il mio ruolo che non può essere quello di farmi tutto il trend e di battere il mercato una volta che io ho acquisito questa consapevolezza del ruolo di quello che mi può aspettare e che lo devo fare frequentemente e in maniera statisticamente profittevole giusto so di far parte di questo universo in quello che sono le mie possibilità la seconda è molta concentrazione e la concentrazione che è questa attenzione è più in posizione flatte in posizione aperta ci vuole velocità per uscire perché sono in mare aperto sono a rischio sono nella giungla sì sto mangiando ma ci sono i predatori e non sono più protetto dietro uno squalo quindi devo essere veloce prendere quel che vedo e ritornare dietro lo squalo o nella tana velocità e attenzione la volatilità è un metodo è un indicatore che mi dice quanto normalmente in questo periodo la caccia dello squalo produce quindi queste bolle d'aria fatte dalle balene fondamentalmente quante sardine inglobano quanto crille ingloba 100 pezzi volatilità 100 inizio settembre erano 67 volatilità 67 c'è meno c'è meno popolazione nel mare ma quello che è fondamentale su questo andiamo a vedere anche un altro elemento è che prima devo aspettare l'attivazione degli squali che li fanno che la creano chiaramente nell'aumento di volatilità e qui si va a vedere quello che succede normalmente ogni giorno tutti si attivano si producono nel costruire i propri trade durante l'apertura perché perché durante l'apertura tutti pensano che ci sia maggiore profittabilità perché ci sono i movimenti più belli vedo dinamiche più avvincenti vedo che improvvisamente da un momento di lateralissimo in preapertura si crea un movimento straordinario io personalmente essendo pesceremo la cosa faccio l'apertura me la guardo con i popcorn me ne sto tranquillamente dietro allo squalo questa è l'apertura e dico va bene il fatto che 90 volte su 100 l'apertura produce le bolle d'aria cioè è un aumento di volume stratosferico rispetto alla precedenza mercato chiuso e in quel aumento di volume c'è un ingrassamento di retail in una posizione per cui ho bisogno che lui si sfoghi perché sono le balene che stanno creando queste bolle d'aria e dopo una volta creata che io abbia chiarezza dove sia in quella giornata in quel momento il mio cibo per esempio questa è la giornata di ieri io ho lavorato molto su questo primo segnale che mi dava pensate quasi tre ore dopo l'apertura un'indicazione che tutto questo che tutto questo lavoro prodotto dagli squali era proprio deutico per fare questo è quello che è successo venerdì questo è 5 minuti ragazzi è abbastanza emblematico incamerate gli shorter 1 2 3 stoppate gli shorter che erano ben posizionati durante l'apertura quindi bolle d'aria che hanno incamerato tutti questi con l'1 2 3 su questo ingresso qui metà volatilità primo thread andato poi dopo l'1 2 3 si lavora su altri segnali perché non c'è solo l'1 2 3 il thread attivato costruisce sempre poi una cosa di questo genere perché la trappola è scattata ma lui produce altre bolle d'aria sulla congestione un cino fine degli ordini chiusura qui la balena con lo squalo ha deciso basta per oggi sansazzi così sì lo so che vanno presi anche questi qua sopra ma vediamo lunedì ok quindi cosa fa il pesceremora fondamentalmente pesceremora lavora in acque meno agitate quindi non durante la notizia ma con quello che la notizia serve per le mani forti per produrre la manipolazione i volumi quindi aspetto l'ingresso massiccio di retail sono un pesceremora e aspetto il primo segnale di continuazione o contrario e mi fanno capire in un momento di acqua e meno agitate sempre a mercato aperto quale può essere la direzione degli ordini migliori da andare a prendere e aspetto il segnale o i segnali chiamano anche un altro perché è importante seconda cosa so che la caccia è pericolosa so che nella caccia ci si fa male so che posso diventare preda vado a prendermi essenzialmente quello che mi spetta in velocità estrema quindi lentezza astronomica nell'attendere velocità impressionante nell'uscire a differenza un po' da quello che ci viene insegnato veloce a entrare e sta aspetta fai andare il trend entra short qui ah è short lascialo fai correre i profitti ha un corso i profitti ma io non li ho presi qui la mia volatilità è 5 punti e il mio ingresso al punto 2 è 394680 i due terzi quindi sono due punti e mezzo quindi 3949 vediamo se l'ha fatti l'ha fatti un terzo via ideme qui la volatilità l'ha fatti via anzi addirittura qui un terzo ci andava tranquillamente fondamentalmente questo il regime in cui operiamo noi questo mercato è un mercato che crea ogni giorno un inizio bolle d'aria delle balene una manipolazione una rappresentazione e poi un esito scriviamo inizio rappresentazione di un movimento short vediamo di scrivere più piccolo ecco poi dopo cos'ho un'evoluzione chiamiamola la creazione della manipolazione e ho un esito ora questo esito è stato contraria ma ci sono anche degli esiti in cui invece essendoci degli ordini sotto perché poi alla fine questi sono stati anche ordini presi come esito da chi da questa rappresentazione long precedente scatenati con 1, 2, 3 qua sopra per esempio ma vedete che non importa la balena dove si va non importa che si creano bolle e ordini si è mangiato qui diciamo si è cibato l'Europa qui si sono cibati gli americani io non entro l'esito me lo dà il segnale e purtroppo per avere un esito come in tutti gli esiti delle cose si deve aspettare o succede che ci sono quei giorni in cui non si fa trading perché il segnale non avviene c'è una continuazione di movimento lento e fondamentalmente forse non vale nemmeno la pena operare mi è coordinato dal dottore chiedeva per forza uscire allo scoperto dalla mia tana quel giorno e seguire lo squalo questo è un po' il discorso che ho voluto cercare di fare oggi un po' per dare un po' l'idea di quello che è secondo me il mercato e anche perché onestamente io sono rimasto sconvolto non sono un grosso frequentatore di youtube o di canali di formazione di trading o di strumenti di trading in questo senso lo avete vedete io sono molto artigianale c'è il trading che faccio io può essere fatto con un foglio di carta su cui disegno delle candele però sono sconvolto da queste frasi effetto anticipa il mercato batti il mercato fai seguire i profitti perché sono cose che sono tutte propedeutiche a trasformare il pesce remora in sardina o fargli pensare che è uno squalo cosa che è ancora peggiore no ci sono dei soggetti nel trading che sono giganteschi che hanno delle capacità di fuoco che noi non potremo mai aspirare perché il sistema è di logaritmi di algoritmi fatto da una casa di trading che costa su milioni d'euro quindi per essere come loro innanzitutto spendere milioni secondo di poi che è fondamentale è che io devo essere consapevole del mio ruolo perché voglio dire che male c'è a essere un attimo umili nel pensare che sono un pesce remora ma ragazzi io conosco dei trader pesce remora che vivono da Dio quindi gli elementi che mi danno la possibilità di essere questo personaggio li abbiamo visti mi mancano altri nel libro li scrivo e poi farò altri video in tal senso che sono per anticipare quello di tenere registrazione dei trade quello di analizzare i trade e dire sì sono uscito in mare aperto dietro lo squalo in quell'orario lì poi ho visto che lo squalo se ne andava a spasso per i cavoli suoi non era a caccia come posso individuare queste situazioni non profittevoli che statisticamente vedo perché ogni squalo lo piglio e lo seguo tipo segnale di 1,2,3 o congestione in momenti di mercato in cui non c'è la caccia anche quelli poi ne andremo a vedere ma quello che deve essere iniziare è fondamentale anche per capire un po' qual è il mio intento in questo tipo di video che sto facendo è che non ci sono dei consigli operativi perché nessuno può fare consigli sull'operatività ci sono però degli strumenti di osservazione grafica nella legge dei grafici di osservare cosa sta realmente succedendo nel mercato cioè quello short visto sul daily sui minimi di quest'anno era propedeutico perché crolla il mercato era propedeutico perché c'erano quei mille contratti che dovevo piazzare in acquisto come manoforte ecco quelli grafici riescono a darlo noi abbiamo visto nei video precedenti che il sistema per ovviare a questo pericolo qua fu il conteggio delle candele di 3D range oh madonna ho un po' esagerato in questa 3D range che questa uscita era prematura e quindi poteva essere più utile per piazzare questo cento fish in acquisto che per andare in vendita ok buona domenica fatemi sapere se questo tipo di video per voi possono essere utili rispetto a quella che è la normalità dei video che vengono fatti su questo piccolo canale che ho deciso di mettere in campo alla prossima buona domenica buona tutto ciao a tutti